ciao a tutti dal cappello che è quello giusto sono qui a comunicarvi che torna Porto Rubino sono molto contento festival che nasce dalla volontà di voler fare qualcosa di importante per la Puglia che è la mia terra e per il mare che il mio secondo elemento sarà un'edizione bellissima perché bellissime sono le location iniziamo a Tricase Porto per poi spostarci tornare indietro a Monopoli e poi chiudiamo l'edizione sul Mar Rionio al confine tra Campomarino e Torreovo nella vecchia Tonnara grandissimi ospiti ci saranno Samuele Bersani, Drusilla Foe, Vasco Brondi, Gioantile, Malika Iane e poi Antonio Diodato ma la novità vera è che per la prima volta ospitiamo un artista importante internazionale che è Benjamin Clementine ma c'è ancora un'altra sorpresa è la sorpresa che in ogni porto ci sarà un artista non annunciato un artista assoluto io vi abbraccio vi aspetto a Porto Rubino e sempre col vento in bocca non annunciato un'ottima non annunciato un'ottima Grazie a tutti.